Si sono riaperti dopo una ventina di giorni di stop i cancelli della Cantarelli, la storica azienda Tessile Aretina con sede a Terontola, ma ancora sono molte le incognite sul futuro dell'azienda e dei lavoratori. Ad un mese dall'asta andata deserta, infatti, ancora ci attendono notizie sulla procedura di cessione. E proprio per avere chiarimenti in merito le organizzazioni di categoria CISL, CGL, UIL e le RSU saranno ricevute giovedì in prefettura ad Arezzo. I rappresentanti dei lavoratori incontreranno infatti il prefetto Clara Vaccaro per fare il punto della situazione nella speranza di ricevere notizie in merito alle intenzioni del Ministero e del Commissario Romagnoli. In mattinata, inoltre, alcuni lavoratori saranno presenti fuori dal Palazzo di Giustizia per far sentire la propria voce e soprattutto la propria preoccupazione in questo momento e di estrema incertezza. Al momento sono circa 130 dipendenti al lavoro, circa un centinaio si trovano ancora in cassa integrazione. Della vicenda si è occupata anche la senatrice Aretina Donella Mattesini. Io sono molto preoccupata, tra l'altro abbiamo seguito la vicenda Cantarelli fin dall'inizio e devo dire che il fatto che la prima asta, la tre eserta, crea davvero grandi preoccupazioni. E oltre che creare preoccupazioni, io credo che debba avere l'impegno sia da parte della Regione, ma per quello che riguarda me, anche il far carico di questa vicenda al Ministero di Sviluppo Economico. Ne parlerò direttamente con la sottosegretta, la viceministra Teresa Bellanova, che conosce la questione e presenterò anche un'interrogazione. Però, al di là delle interrogazioni, serve davvero che tutta la nostra provincia lavori in modo unitario, perché questa vicenda è una vicenda che merita un impegno. Sono, come dire, 200 persone, ma anche, come dire, un marchio e anche un'azienda importante che ha fatto la differenza nella qualità dell'esportazione anche di questo nostro territorio. E penso che debba essere difeso proprio il posto di lavoro delle persone, ma anche una possibilità per il nostro territorio, in questo caso la Val di Chiana, di poter mantenere un polio produttivo di grande importanza.